Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il Natale assume una dimensione straordinaria per Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, poiché si trova in dolce attesa del suo primo figlio. In una recente intervista al numero di confidenze attualmente in edicola, la giovane artista condivide la sua esperienza. Rivelando che non era inizialmente pronta a condividere la lieta notizia della gravidanza. Il maschietto, la cui identità è ancora avvolta nel mistero, verrà accolto il 14 gennaio. E Romina assicura che il suo nome sarà unico e non influenzato. Escludendo il nome Albano, Romina Carrisi si apre sulle sfide della gravidanza, confessando, sono costantemente stanca, desidero solo riposare e attendere l'arrivo del mio bambino. Ciò che rende particolarmente interessante questa storia è la scelta di Romina di mantenere segreta la gravidanza, almeno durante i primi mesi, non ero pronta a condividerla. Inoltre, è meglio evitare attenzioni superflue nei primi mesi. Romina ha scelto di vivere questi momenti di attesa e gioia in campagna, lontana dai riflettori, preservando così la sua intimità. Il tema del nome del bambino si rivela affascinante. Romina spiega di voler seguire la tradizione, ma aggiungendo un tocco personale. Un nome antico, ma non legato alla nostra famiglia. Contrariamente alle aspettative, il bambino non porterà il nome di Albano, punto su un nome unico, che renda il bambino riconoscibile. A me è piaciuto portare il nome di mia madre, ma per lui preferisco qualcosa di completamente suo. Romina riflette inoltre sul desiderio di maternità e sulle radici ereditate da sua nonna Yolanda. Ho un approccio pratico verso la maternità che deriva dalle radici contadine di nonna Yolanda, di cui vado fiera. Affrontando le trasformazioni del suo corpo, Romina contempla il suo rapporto con il pancione. Da bambina ero un po' paffutella, e da adolescente lo vivevo con disagio. Ora, finalmente, ho compreso il suo significato e mi piace vederlo crescere. Questo cambiamento di prospettiva rivela come la maternità abbia portato Romina a riscoprire la bellezza intrinseca in queste trasformazioni.